Ciao, ieri pomeriggio mentre venivamo a Merzuga durante una tempesta di sabbia, si è messo davanti alla macchina uno che sembrava un berbero tutto vestito di bianco e ci ha chiesto un passaggio e noi non abbiamo potuto dire di no e lo abbiamo caricato in macchina, lui si chiama Youssef e ci ha portato in questo hotel bellissimo con la piscina e le dune di sabbia completamente nell'hotel, cioè non c'è una divisione fra l'hotel e il deserto, direttamente nel deserto e ci ha dato una suite a un prezzo credo abbastanza conveniente, credo e poi Youssef abbiamo cenato, abbiamo trovato degli altri italiani interessantissimi come persone, abbiamo cenato, abbiamo fatto la chiacchiera e poi stamattina siamo andati con Youssef a comprare il coso per fare il turbante, poi dopo vi faccio vedere e l'acqua, abbiamo comprato un sacco di acqua perché oggi pomeriggio alle 4, andiamo con i cammelli, hai fatto vedere i cammelli? Con i cammelli, anzi con i dromedari, andiamo nel deserto e poi dopo di che siamo venuti in piscina a fare un po' i papponi, ora abbiamo finito, ci vorremmo andare a fare una doccia, ma oggi siamo un po' sfortunati perché dalle 8 non c'è né acqua né corrente, quindi stiamo temporeggiando e stiamo aspettando di vedere se per caso torna l'acqua per farci una doccia, se no andiamo nel deserto con i zunzui. Da Merzuga e dall'hotel non so come si chiama, è tutto, alla prossima direttamente dal deserto.